2008. 2008. Erano tempi molto diversi, nonostante siano passati solo 12 anni. Anni che ho passato diverso tempo a dedicarmi ai videogame. Con l'uscita di Metal Gear Solid 4, Gears of War 2, Little Big Planet e Fallout 3, solo per citarne alcuni, il mio tempo libero al di fuori dello studio scorreva con il gamepad in mano, alternato dalla presenza di qualche snack e bevanda, soprattutto in estate. Ma i videogame non sono la mia unica passione. Infatti ai tempi rispetto che a comprare un gioco appena uscito, o anche vecchio perché no, avrei preferito di gran lunga andare in una sala cinematografica a godermi un bel film. E qui è da sottolineare proprio l'anno nel quale ci troviamo, il 2008. Anno in cui sono iniziate alcune saghe leggermente fallimentari, sequel sempre più insensati ma realizzati solo per il fandom e incredibilmente anno che ci ha regalato dei piccoli capolavori come Hellboy dei Golden Army, nettamente superiore al primo, Cloverfield e mannaggia alla censura italiana, e anche Hancock, perché no, visto che è stato il primo a stravolgere l'ideale di supereroe da noi conosciuto. Essendo un amante dei fumetti sapevo bene quali eroi comprendeva la Marvel, ma quando vidi per la prima volta in televisione il trailer di un uomo con indosso un'armatura, non ce la feci più ad aspettare, dovevo andare a vederlo. Andai in sala, mi sedetti, ed aspettai le pubblicità prima dell'inizio del film. Poi iniziarono e... Mi trovai davanti un film come Wanted, Scegli il tuo destino. Dimenticabile, sì, ma ai tempi aveva un enorme potenziale sotto diversi punti di vista, per non parlare del Cavaliero Scuro, film che recuperai successivamente dopo un paio di mesi. E sappiate che vedere il Joker, anche solo nel trailer, mi aveva reso felice come non mai. L'atmosfera che però si creava era molto suggestiva, rispetto ad oggi. Ormai si va al cinema e non si vede l'ora che il film inizi, perché al massimo mandano tre pubblicità, di cui due di film italiani che non avrei il coraggio di andare a vedere per nulla al mondo. E se l'hype per un film, come Iron Man, non fosse stato abbastanza, ecco che venne lanciato un altro trailer, l'incredibile Hulk. Ai tempi nessuno avrebbe mai collegato i due film in un ipotetico futuro condiviso, ma io, in sala, mi dicevo, forse, forse potrebbero essere ambientati nello stesso mondo. Ed effettivamente fu così, a modo loro, con un incredibile colpo di scena. Ma oggi, no, non è più così. Da ben 12 anni, purtroppo, l'industria cinematografica mette tutte le carte in tavola, senza colpi di scena che ti lasciano spiazzato, anche a causa di internet, delle speculazioni e soprattutto degli spoiler. Ad esempio, perché rivelare che dopo il primo film ne farete già altri 5 o 6, rovinando così magari qualche colpo di scena in merito al protagonista o alla trama stessa? È meglio lasciarle andare gradualmente le cose, godendoci prima il prodotto iniziale e successivamente, se devono esserci, i sequel. Come è stato fatto con i primi due film di Iron Man. Ma andiamo avanti. Cosa accomunano i videogame ed il cinema del 2008? Semplice, la nostalgia. Per un periodo in cui le cose erano diverse da oggi, ma di certo non migliori, ovviamente. Ricordo che rimasi ore intere fermo in Metal Gear Solid 4 ed altrettanti in Fallout 3, ma andava bene così, a costo di sforzare l'ingegno. Oggi, invece, basta fare un click, scrivere il titolo del gioco e guardarsi una soluzione e un gameplay. Lo stesso vale per il cinema, grazie allo streaming, che si sta ampliando sempre di più, rovinando quella che secondo me è una possibilità di andare al cinema, in un'enorme sala buia, con il proprio partner, un familiare o un amico. 2008, l'anno in cui le mie passioni cinematografiche e videoludiche hanno preso piede, iniziando la scalata del mio personale Monte Everest, dei miei molteplici oppi. Spero che questa curiosità, queste mie opinioni, possano esservi piaciute e vi abbiano intrattenuto nel migliore dei modi. E voi, invece, avete nostalgia di qualche anno in particolare in merito ai vostri hobby? Scrivetemelo con un commento esponendo le vostre opinioni, sono particolarmente curioso di leggerle. Grazie a tutti.